ma sta lontano sto stronzo eh sì perciò stavamo acro ok sta arrivando piano piano eh ci vorrà ancora un attimo no sta tornando indietro sparatevi cercatevi a tirarlo eh ci vuole un po' mentre ti ricordi prima l'avevamo lasciato perdere poi è entrato dentro sì forse meglio se lasciamo facciamo per il suo giro madonna questo era vicino porca dio arretra un po' sul tetto vediamo se mi segue da dentro eh no è lì fermo 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 impalata faggato provo a colpirlo ancora appena tiri fuori la testa mi sa che vieni sento che si muove sta arrivando sta arrivando non sento fiamma madonna per un pelo stava con linea se no che cazzo non entra forse ora forse ora sta arrivando lo sento si si sta arrivando arriva arriva ah si bravo sulla ricorda piano piano però entro eh no è fermo lo sento che si muove io eh per ora è di fermo spero a tiro camminando di qua ecco lo porco di mapiato cazzo eva si chiama tutta fa 50 HP di danno per un colpo cazzo dai entra dai per me adesso adesso è f***o ora sta sta arrivando eh sta arrivando sta arrivando sicuro adesso adesso si fall esploso ma non non cazzo no non esploso è esploso ma non serve un cazzo è andato e il primo carro ce lo siamo fatto eh non si riesce più uscire da qua però adesso sono al buio è easy proprio dai se questo ha spawnato a 15 minuti ma sai che si si ci dà gli esplosivi per rifare il c4 post troppo facile il c4 ma te sei morto mi? no eh è lentissimo ora che si tira la torretta so scappato mamma mia eh vabbè meglio così si è avvicinato non appena mi sono allontanato all'indietro nel tetto cioè è come se non ci fosse il tetto per lui siete fuori mitico? io sì davanti alle casse ok vengo anch'io vediamo fino a dove riesco ad avvenire oh chi è questo qua? adesso sarei curioso di sapere quanti razzi ecco sono un coglione si fa non ha stempighiato su sta scala del merda è saltella giù un po' sui lati occhio eh occhio per occhio che casse saranno? sempre quattro dentro non ce n'è? eh non si vede no mi sembra che siano due casse c'è una via per entrare dentro si eh prova che io ti accompagno un po' ce l'hai la rompo di luce? eh c'ho la torcia ah accendi accendi avversi saranno saliamo starve avversi ecco avversi 10 Ah I spilos? Tu puoi salire ma non c'è niente solo Notizio E' quasi sentito fuori No, qui una ne vedo Sono sparpagliato con me 1 Però non è meno la casa Ci manca la Bedaro sopra E' il got Penta mitico prova Ma va, fa culo mirino, 4x, un altro mirino Ma va, caccia Che schifo Speriamo che non sia tutto lì Possiamo picconarlo, eh, dopo Ma io qui non vedo casse qui fuori, comunque son dentro, eh Eh, io son dentro e non è per Mi pare che son due casse Due casse Eh, da più, però fai con un C4 Fai con un C4, sì Fai con un C4, sì Fai con un C4, ne puoi trovare un... Eh, beh Eh, vabbè, speriamo Ma questo è un campfire, questo qua Le vedete voi da dentro? No Avete della legna? No No Possiamo dare fuoco a questo bidone E ci puoi cucinare Fate luce Fate luce sotto il cartamato Non l'avete? Ah, l'ho visto, ho visto No, proiettili Normali? Eh, un po' di tutto come gli elicotteri Normali, a tre velocità, esplosivi e incendiari Ma puoi scrivere solo due? Io nei video ho visto solo due casse Allora bella merda Non è nemmeno un vero e proprio caro armato Eh, è un tanky Un veicolo corazzato No Voi che fate? Intanto controllate bene che non ci... Eh, aspettiamo un attimo lo piccoliamo, no? Volete due corpi SMG? Non so quante ne ho Cosa è il piccone, Miti? No No, io no Aspetta, vieni... Piedra la stanza cosa Dov'è di Silos? Cazzo io? No, aspetta